Bentornati amici, bentornati da Deccelso in questo onestino video, video del giorno dopo, sentenze pagelle, Benevento Cagliari Non mi sono preparato assolutamente nulla, sarà un video, come sapete quest'anno mi piace fare un video un po' più dialettici Un po' più dialettici e un po' più discorsivi, parlando del più del meno, poi insomma i voti ve li posso dare Ma sono sempre voti molto indicativi, più o meno per dire se uno ha giocato bene, bene, molto bene, male, molto male Nulla di particolare, nessuna sentenza definitiva, sono sempre aperto e tutto orecchie Allora, cerco di ricordarmi anche tutti quelli che sono entrati e la formazione titolare perché non è facile Mi dispiace solo una cosa, che come al solito l'espulsione di ieri di Obert è stato il preludio per un iniziale E sono contento che sia entrato il vumbo perché se no apri di cielo alle retoriche che uscivano E' stato un inizio di, ah, i Vistobert ancora non è pronto, non ho mai detto il contrario Ho detto che come qualsiasi giovane c'è un percorso di crescita, c'è un periodo nel giocare in un ruolo che non è tuo In cui ti devi adattare e sono sicuro che quest'anno, vi devo ricordare Carboni come aveva iniziato con due espulsioni E' chiaro perché sono quell'ingenuità che uno commette, mi sembra ci sia rimasto veramente molto molto male E sono sicuro che ingenuità del genere non le commetterà più E un giocatore che tra l'altro sta, stava e sta fornendo prestazioni di alto livello Ieri nei commenti ho visto, ah basta con questo Obert Come se, voglio dire, fossimo abituati bene sulla fascia sinistra Commenti purtroppo che denotano ancora una volta un provincialismo nella piazza di Cagliari Veramente, veramente raro E devo dire, tifosi proprio a livello di progettualità zero E capisco in questo momento che effettivamente forse fare una squadra puntando sui giovani Facendo un progetto, poteva anche non essere sposato dai tifosi Cioè io continuo a predicare nel deserto, ripeto, poi salvo gente tra di voi che appoggia quello che dico E sono sempre molto contento Però è tantissima anche la gente, tantissima ragazzi Chiaramente non è che sto parlando a milioni di persone Tantissima rispetto al mio pubblico Che mi dice, ah no ma vedi, il progetto non serve, bisogna risalire subito, non serve Senza calcolare che il prossimo anno poi, che sia serie B o che sia serie A La solfa è sempre la stessa e questo ci tenevo a dirlo perché ho ricevuto di nuovo numerosissimi commenti Di persone che dicono, ah questo giocatore non è da Cagliari Ma che cazzo vuol dire non è da Cagliari? Poi manco, cioè non è da Cesso Allora non è da Cesso, allora è un giocatore Allora o una fece che entra nel Cesso Oppure è un peto che si diffonde, si dissolve Cioè ragazzi, ma il calcio moderno non è così Non è così Vabbè, tolto questo che era la solita predica e retorica Che non è una retorica fino a se stessa a mio avviso Ma ribeto, cioè nell'anno corrente possiamo anche salire La squadra è valida, ve l'ho detto nel voto del mercatore del Cagliari I problemi poi sono sempre guardando al futuro Cioè se vogliamo avere altri otto anni di sali e scendi Dove ci si emoziona per le vittorie in serie B Cioè io non mi sento un tifoso mediocre io, così mediocre Cioè io ho l'impressione veramente che tanti di voi Vivano una vita da tifoso veramente mediocre Cioè in una mediocrità calcistica voi posizionate il Cagliari Io il mio Cagliari lo voglio vedere Cazzo ma l'anno che siamo retrocessi Siamo retrocessi con l'Atalanta che ha fatto 35 punti E che ci ha mandato lei in serie B Non è che sia... Cioè l'Atalanta, guardate che percorso che ha fatto Partendo dai suoi giovani perché Chessiera del settore giovanile Perché Chessiera del settore giovanile Perché Spinazzola l'hanno lanciato loro Poi adesso non c'ho qua la formazione sotto mano Ma era una squadra con degli attributi e gente con fame Ma andiamo ai voti perché non voglio parlarne oltre Andiamo ai voti Intanto scusate se ci sono delle voci ma sono qua sotto Come vedete questa è la postazione storica degli sfoghi Ma oggi non sono particolarmente arrabbiato Sono solo un po' rimesso Un po' rimesso Un po' rimesso Anche un po' risentito Allora passiamo a Boris Boris eri molto molto bene Sono contentissimo Serviva una prestazione di livello Perché zittisse un po' di voci brutte sul suo conto C'erano già le vedove di Cragno Che voglio dire Con le prestazioni fatte l'anno scorso Le ultime cose che voglio sentire Ah ci mi manca Cragno Ma non scherziamo Comunque voto sette e mezzo Ha fatto tutto benissimo Tra l'altro oggi ho visto Musso Che ha fatto un paperone Adesso contro la Cremonese Ieri Boris qualche tiro di questo tipo Ce l'ha avuto L'ha sempre tenuta lì E' sempre stato bravissimo Voto sette e mezzo Ma che otto Ma otto Guardate che ieri Boris ha fatto rente Delle uscite tutte puntuali Molto molto bravo Sta migliorando Bene Ha bisogno di fiducia Di sentire la fiducia della squadra Altare Goldaniga Anche qui do sempre voto unico Perché Cioè voto unico Sapete che mi piace più altare Altare Lo vedo un po' in difficoltà Nell'impostare col sinistro Ve l'ho già detto Per me è un giocatore da difesa 3 Di centro-destra della difesa 3 Solo che è talmente forte Talmente roccioso Talmente clamoroso come giocatore Che Che fa quello Spostare ovunque Anche a centro-campo Personalmente Anche in attacco Però Quello che voglio soffermarmi Su Altare è questo Cioè È chiaro Che Se uno vede la partita Io non vedo l'ora di vedere Cagliari-Bari Così mi renderò ancora più conto Di questo aspetto Che andrò allo stadio Venite tutti allo stadio Vedere Cagliari-Bari Sarò allo stadio In curva sud Però Quello che voglio dire E Cioè Guardate gli atteggiamenti in campo Il capitano Che dai la fascia a Rog Che comunque Voglio dire È un capitano molto Ammirabile È un cucciolone È un giocatore fantastico Però il capitano Negli atteggiamenti Nelle risse Nel Quando un giocatore cade Chi lo va Un giocatore nostro Si fa male Chi va lì vicino Guardate chi è È sempre Giorgio Altare Cioè su questo Mi vorrei un attimo Soffermare Altare è un giocatore Veramente Dalle doti Individuali Ma a livello caratteriale Che a Cagliari Non ce le ha Nessuno E Altare Deve essere fatto capitano Ora E ora Altare Deve essere Deve sentirsi Al centro del progetto Tu gli devi dire Giorgio Tu sei il capitano Perché da qua Dieci anni Sarai il difensore Titolare del Cagliari Fine E hai un difensore Validissimo Completo Forte Roccioso Cattivo Ignorante Simpatico Umile Insomma Tutti gli attributi Su questo lo volevo dire Perché da un po' Che non parlavo di Altare Poi sembra Ma Altare Non l'hai più nominato No Non è che l'hanno nominato Cioè È sempre il solito difensore Clamoroso E sapete la mia opinione Non è assolutamente cambiata E sta sempre più dando prove Per me è una certezza Goldaniga Bene Ho giocato bene Bene anche lui Si è perso forse un uomo Su un'occasione Del Benevento Però devo dire Giudicatore Allora Mi aspettavo Mi aspettavo Qualche rissa di più Del giudicatore Ieri mi ha un po' deluso Tra l'altro Andrò a fare I saluti ai giocatori Se viene a fare Se viene lì A far firmare Cazzi e Mazzi Gli chiedo Com'è il suo rapporto Con Cherry Glielo voglio chiedere Lo facciamo Lo facciamo Poi Zappa Zappa anche qui Io leggo sempre I vostri commenti Con grandissimo piacere Soprattutto chi gli scrive Su opinioni Che sono insomma Molto soggettive Sul giocatore E dicono Tra l'altro Dei commenti Non presuntuosi Li leggo sempre con piacere Ho visto che ieri Molti eravate gasati Da Zappa Vi devo dire la verità Io che sono Un acerrimo Difensore di Gabri Sta migliorando molto In fase difensiva Ieri è stato Precisissimo In fase difensiva Però ragazzi Io con Nandez davanti Sulla posizione di Ala A me Zappa Non convince Cioè Zappa È uno che ha Una progressione C'è una progressione Una spinta Proprio totale Un motore Totale dietro al culo Di Peti Un motore di Peti Flatulente Un po' Flatulente Zappa Che però Devo dire Devo dire Un giocatore Un giocatore Che mette sto motorino L'attacca Pupupupupupup Peto 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 E parte E parte Ieri non Ieri non l'ho visto Cioè Ieri è una partita Un po' Da Alexandro Ripeto Uno di quei giocatori Che dici Sì Ti fa la partita Precisa difensivamente Però forse Ti serve altro Forse è anche vero Che ieri Gli è stato chiesto Io ho sempre visto Che i terzini Quando provavano Ad avanzare Obert stesso Che lui è uno Che avanza molto Cioè Tornavano sempre indietro Come se le impostazioni Di gioco Fossero quelle Obert E quindi Goldaniga Cosa dobbiamo dare Altare Voto 7 È preciso Goldaniga Voto 6 7 Zappa 6 Non mi ha Non mi ha devastato La giornata Devo essere sincero Ma ho letto Molti commenti positivi Sono super contento Perché un giocatore Sul quale io Punterei tantissimo Obert Purtroppo Gli devo dare Un'insufficienza Per l'espulsione Perché l'altro giallo E bisogna dirlo Ha fatto Un'ingrossissima ingenuità Io Detto ciò Per me Obert È il terzino Sinistro Titolare Ah no C'è Franco Carboni Va bene Parliamo dopo Obert Gli dò un 5 Però per il resto A me era piaciuto Ed è un giocatore Sul quale devi lavorare molto Che ha grossissimi Margini di crescita Poi andando un po' veloce Rog Rog Vi devo dire la verità Un altro Entra nel gol Entra nel gol Che se ne dribbla due o tre Ieri Rog in realtà Non mi ha fatto impazzire Anche lui Mi sarei aspettato Un qualcosa di più Gli do un 6 Più Un 6 Più Perché comunque Ci ha messo il suo Però è un po' scomparso E durante la partita Non mi aspettavo Un Rog un po' più presente Contro il Modena È stato totale Devastante Macumbo Anche qui Ho letto altri commenti Positivi Io Sono onesto Macumbo Ve l'ho detto anche Il mercato del Cagliari Per me è un giocatore Che è un acquisto Molto interessante E sono contento Però Non ho ancora capito Che tipo di giocatore è Non ho ancora capito Se è un play So solo che non ha Le qualità di interditore Per fare il mediano Non mi sembra un play Mi sembra una mezzala Ieri non ho capito Il modulo che c'era A un certo punto Un 4-5-1 Un 4-2-3-1 So solo che non era Un 4-3 E Non lo so Non mi ha convinto Anche ieri E i Rog Gli abbiamo dato un 6 più Macumbo gli diamo un 6 Perché Di grossi errori non ha fatti Ha perso qualche pallone Pericolosino Non mi ha fatto impazzire Macumbo ieri Mi dispiace Cioè io vorrei dire Il giocatore mi è piaciuto Perché vi vedo tutti fomentati Da Macumbo A Macumbo Recerse Ma sì Recerse è un gaser Clamoroso Però Va detto quel che va detto Cioè un giocatore E ad oggi deve trovare Ancora un po' La sua La sua dimensione Poi chi era l'altro Che giocava a centrocampo Erano Rog Macumbo E Viola Viola ieri invece Molto molto assente Viola è un altro assente Clamoroso Devo dire una cosa Devo anche Ritornare un attimo Sui miei passi Ripensandoci ieri I cambi Ci stavano Il togliere i due Che palleggiavano Per mettere un centrocampo Più fisico Essendo in 10 Ci sta come idea Quindi chiedo scusa Oliverani Ci ho pensato dopo Ho detto sì Poi forse tutto sommato Rog e Viola non mi sembravano Gran che in forma Forse ha fatto bene Deiola Anzi ha fatto molto bene Perché poi Deiola Ha fatto anche un assist Veramente con i giri importanti E ci arriviamo Viola male Viola non gli do neanche La sufficienza Cioè a me non è proprio Piaciuto Viola ieri Secondo me è mancato Tanto lui nel palleggio Nel primo tempo Io gli darei Un po' A Berrant La prestation di Viola 5 e me Anzi 5 al 6 Dai Diamo gli un 5 al 6 Poi andando a destra Nandez Nandez Motorino Di qua di là Ma per me non deve giocare lì Per me ho giocato Interno di centrocampo E ieri Non avendo Curfalidis E non avendo Lella Perché non li hai messi Secondo me andava messo lì E mettevi un Luvumbo Dall'inizio Mettevi un Falco Se non è in forma Un Pereiro dall'inizio E provavi lì Ma secondo me Questo Nandez visto come al È proprio una deviazione Mentale clamorosa Che sta Un abbaglio di quelli Stile di Francesco Che sta prendendo Oliverani Cioè noi abbiamo La possibilità Di giocare con due ali Che sono Che allora Che dovevano essere De Sogus e Luvumbo Credendo nei nostri giovani Purtroppo perché Siamo una Una piazza Provincialotta E mediocre La deligenza Ci ha accontentato Dando via De Sogus E siamo stati tutti contenti Contentissimi E quindi c'è Millico Però sono due ragazzi Che vanno fatti giocare Vanno fatti giocare Io spero che il mister Stia temporeggiando Però io non Non sono di questo avviso Nel senso che Chi mi dice Ah ma sta temporeggiando Con i giovani Ma qual è temporeggiando Che Curfalidis L'ha spedito Non so Adesso Curfalidis È scomparso proprio L'ha spedito in tribuna Non lo so Non mi sembra Che ci sia questa gestione Così accurata Ripeto Ieri avevamo un cambio A centrocampo Cioè non stiamo Stiamo parlando di matematica Cioè non ha senso Andare in campo Con un cambio A centrocampo Perché non sai mai Cosa può succedere E ti sei giocato Insomma In grosso modo Di chance Di cambi Tattici E quant'altro Passando poi Alla padula Prima del gol Era da 4 Con il gol Voglio dire Gol che ha sbloccato Poi la partita Lasciate perdere L'Uvumbo Però l'altra squadra Era sbilanciata Era sbilanciata Perché Perché La padula Ci aveva mandato in vantaggio Quindi Ah Nandez Ma Nandez Io do un 6 al 7 Cioè perché la partita Poi è buona Ma non è quello Il suo ruolo Anzi 6 e mezzo Diamogli un po' di meno 6 e mezzo Per me la partita In Nandez È tutto sommato buona Però non è Non è quello Non è quello Il suo ruolo Poi La padula Voto Considerato il gol È tutto 7 Perché Se un attaccante Gioca così male E ti fa il gol Gli puoi dare Questo voto qui Perché effettivamente Te l'ha fatta vincere lui E a sinistra Mancosu Che Io Anche qui Ripeto Onestamente Il Giubilare Un De Zogos E il prendere Un Mancosu Come quello Visto ieri O meglio Come quello Visto in quasi Tutte le partite Tranne la prima Ma Mi lascia riflettere Poi che abbia Delle qualità Su questo Io non ho mai messo Parola Per carità di Dio Le qualità le ha sempre Dimostrate Anzi Un giocatore Che a livello Qualitativo Puro Poi Adesso Chiaramente Incalando Però Qualitativo Puro Non è neanche così Da serie B Era un giocatore Poteva dirla sua Anche in serie A Solo che a noi Piace prendere i giocatori A 35 anni Se sono sardi Anche a 40 Però Ripeto Non Non mi ha fatto Impazzire Beh Aveva dato una bella palla All'inizio per la Padula Ma Per il resto Voglio dire Mi permetto di dire Che è stato Veramente assente Scartare l'uomo Non l'ha praticamente Mai scartato Una volta Una volta si è incartato Uno contro uno Insomma Non mi ha fatto impazzire 5 al 6 Anche lui come viola Oggi sono buono Oggi sono buono Passando agli altri Zito lo vumbo Visto che primavera Ci si fanno Così tanto schifo E visto che si dice Che i giocatori Non sono da Cagliari Zito lo vumbo Non lo dite in giro Però ci ha fatto Fare due vittorie Su tre Perché ieri L'ha chiusa lui E col Cittadella Tutti sanno com'è andata L'ha assist Per il gol Insomma L'ha ribaltata lui da solo In pratica Addirittura la scorsa No quando era con la Spal Quando abbiamo perso È entrato E ha fatto E ha fatto buttare fuori uno Quindi Per farvi capire Che giocatore Meno male Che è ben voluto E che è protetto Da la tifoseria Perché questo è un bene Incredibile del Cagliari Un diamante incredibile Del Cagliari Su cui bisogna E si deve puntare A tutti i costi L'ho vumbo Voto 8 Ha fatto tutto Anche dei contropiedi Clamorosi Poi dove si è fatto Tutto il campo Secondo me Doveva essere anche Un po' più egoista In un caso Ha provato a metterla dentro Fosse andato sul sinistro Lì segnava E tutti Dovevano stare zitti Quindi L'ho vumbo L'ho vumbo Entrato molto E' entrato molto bene Poi Carboni Con quella sgaloppata Io non so più Come è tenuta 8 Anzi Qual è il voto più alto Che abbiamo dato 8 oggi 8 e mezzo Carboni 8 e mezzo Carboni Poi è entrato anche Pavoletti Ma ho toccato Poi i palloni Ma erano anche Le circostanze sbagliate In cui entrare Vabbè diamogli un 6 Di amicizia Non mi ricordo Se è entrato poi Qualcun altro Onestamente Ma insomma Non penso Abbia lasciato il segno Più o meno Questi Sono quelli Più o meno Questi sono quelli Che mi sono ricordato Ok Ciao ragazzi Ciao